Vitone arriva a questo primo gol personale, possiamo dire uno e mezzo perché anche su Ferrani hai contribuito, serviva questa vittoria. Sì, era importante sbloccarsi mentalmente, siamo partiti un po' tirati, dopo il primo gol ci siamo un po' sbloccati mentalmente, è stata quella la fortuna di oggi. Ecco, questa volta la fortuna rispetto a Civitanova e Ancona vi ha aiutato di più perché Marco Nato e la difesa dei Serena ci hanno messo del loro. Sì, dopo tanti episodi negativi ci è tornata un po' di fortuna e l'abbiamo sfruttata al massimo e speriamo di continuare così. Quanto era importante questo successo soprattutto per tenere a debito a distanza le dirette concorrenti? Era importante per noi, per lo spogliatoio perché eravamo un po' impauriti per tornare alla vittoria, però adesso per fortuna siamo riusciti ad andare a prendere i tre punti e pensiamo subito a domenica prossima. Ecco, adesso è la Samb, la squadra più in forma, la squadra che in qualche modo ha vinto anche oggi e si cambia come alternativa, c'è un po' un tourbillon di queste tre dietro. Infatti anche se ne abbia fatto un grande campionato loro stanno lì, non dobbiamo mollare niente, anche perché ci sono degli scambi diretti già domenica prossima, quindi dobbiamo sfruttare al massimo e cercare di andare a vincere a Sant'Egidio. Per chiudere questo tuo gol, molto bello su questo passaggio di Arcamone, ci hai creduto, hai visto la porta, il palo ci stava mettendo un'altra volta del suo. Forse oggi l'ho cercato più delle altre volte, pensavo una giornata negativa come la punizione sul palo, personalmente però per fortuna è entrata quella.